Grande cordoglio oggi per l'intera cittadina modicana, segnata dalla perdita avvenuta sabato notte del titolare dell'antica dolceria Buonaiuto. La gente esprime un grande rammarico, c'è chi non trova neanche le parole, c'è chi con uno sguardo dice molto, ma c'è anche chi ha voluto dedicargli un ultimo pensiero. Il signor Ruto è stato una persona eccezionale, un precursore dello sviluppo di questa città che ancora avrebbe tantissimo da fare, lui è stato sempre dieci anni avanti, ha lottato per fare del cioccolato, per la ricerca delle tradizioni, per farne un fenomeno culturale per quello che è. Una bravissima persona, un buon impresario e una persona umana. Lei lo conosceva? Di vista, ma una bravissima persona, perché ha fatto tanto per Modica, tantissimo, non poco, ma tantissimo, perché si è visto tutta la gente che è venuta di fuori e lo cerca, e poi per la qualità dei suoi prodotti. Siamo tutti sconvolti, non riusciamo nemmeno ad esprimere quello che sentiamo, è stato un colpo per tutti, per la persona, per la personalità, per la bontà, per tutto quello che lui sapeva esprimere con umiltà. Sentito anche il dispiacere dell'intera amministrazione comunale, che alle 11 ha predisposto un minuto di silenzio in onore di Ruta, per il quale l'intera città si è fermata, anche se non è stato osservato il lutto cittadino che alcuni avevano richiesto. Anche la sezione cittadina dell'ASCOM, con il presidente Giorgio Moncada, ha voluto rivolgere l'ultimo saluto all'uomo, riconoscendo il merito a colui il quale ha dato molto alla comunità cittadina, e che per le sue doti umane merita attenzione. Anche la senatrice Venerina Padua ha reso onore a colui il quale ha fatto conoscere ovunque la contea di Modica, e i proseliti della sua attività dimostrano come sia stata proficua in tutto il mondo. Oggi una folla gremita ha colto nel duomo di San Pietro le esegue del signor Franco Ruta, il grande re del cioccolato. La città si è fermata proprio per rendere omaggio a colui il quale ha portato sulle nostre tavole le tradizioni di antichi nobili, e soprattutto per rendere omaggio anche al ricordo dei suoi prodotti. La città di Modica e non solo ha oggi rivolto l'ultimo saluto al re del cioccolato, Franco Ruta. Il duomo di San Pietro, stamani, ha accolto le esegue di colui il quale viene ricordato come il fiore all'occhiello dell'arte dolciaria. Un uomo che ha portato avanti una tradizione e che ha lasciato un grande vuoto che sarà difficile non sentire. Una folla calorosa ha presenziato alla celebrazione in suo onore. L'intera contea si è stretta intorno ai familiari segnati dal dolore, ma questa è una perdita che è sentita e condivisa da tutti. Una chiesa colma di gente, con occhi lucidi, volti legati dalle lacrime ed espressioni affrante, tutti accomunati dall'unico intento di continuare a ricordare ed omaggiare una personalità significativa che costituirà parte della storia di questa città barocca. Toccanti le detiche e i ringraziamenti al fine della funzione religiosa, che hanno voluto designare la personalità dell'ambasciatore del gusto. Non c'è niente di quello che avrei voluto fare che con lui non abbia fatto. Non c'è nulla di quello che avrei voluto dire che con lui non abbia detto. Queste le parole del figlio, che con voce tremante ha continuato dicendo che dai maestri non si copia, ma si impara, perché solo così si potrà ricordare. Parole sentite sono state anche proferite dal suo staff, che ha voluto sottolineare come quell'attività sia per tutti loro come una grande famiglia e che, grazie al loro maestro, se oggi conoscono le tradizioni e le possano tramandare con grande dedizione. Versi significativi inerenti alla malinconia sono stati dedicati anche dal cantante Giovanni Caccamo, che lo ha voluto omaggiare con la sua arte. Grandi applausi hanno poi accompagnato la salma lungo tutta la scalinata del Duomo, per accompagnarla fino alla fine. Grandi applausi hanno poi avuto la salma lungo tutta 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 la sal